Una tenda trasformata in una clinica di fortuna a Gaza, Najad Saker, dentista, si è organizzato al meglio per continuare a curare i pazienti a Nusseirat, nel centro della striscia di Gaza devastata da mesi di guerra. Il 7 ottobre scorso, racconta, abbiamo dovuto chiudere la clinica, che si trovava nel centro di Nusseirat. Durante la guerra, la rotonda di Nusseirat è stata presa di mira più volte e la mia clinica è stata gravemente danneggiata. Sei mesi dopo, dice, voleva tornare a lavorare anche perché molti gli chiedevano cure. La maggior parte dei dentisti, afferma Najad, ha lasciato il paese o le loro cliniche sono state danneggiate. Così lui ha deciso di riorganizzarsi. Sono andato alla mia clinica e sono riuscito a recuperare una sedia e alcune attrezzature che ho trasportato su un tuk-tuk prima di montare una tenda. I principali ostacoli, racconta, sono la mancanza di elettricità, acqua e attrezzature dentistiche che non sono disponibili e, anche se lo sono, sono molto costose. Ma la sua tenda è già qualcosa nel contesto di devastazione e disperazione. Grazie. Grazie.